Sì, è stato un po' di ritmo, non ho sconto, 5 secondi, più rapido. Ok, cambia. Via. Ok, paracolo in prima, primo in mano, adesso gliela giochi, tu sembra di un piatto, la scoppi e la giochi. La scoppi e la giochi. Sì, sì, sì. Via. Come ha detto a Cimi perché giochi lui la parte, le cose, non ci venga a guagliare.